Edoardo Maria Piccirilli, perché ha deciso di partecipare alle elezioni regionali 2020? Perché? Perché ci abbiamo pensato. Abbiamo pensato ai giovani, abbiamo pensato al territorio, abbiamo pensato al turismo, abbiamo pensato alle impastrutture, alla sicurezza. Insomma, a una serie di temi molto sentiti dai cittadini. Noi saremo qui ad ascoltare e ad intervenire.